La cosiddetta deadline del 14 luglio è definitivamente alle spalle. Sono 163 su 166 le società aventi diritto che hanno presentato la domanda di ammissione al prossimo campionato di Serie D. Il Tor Viscosa ha presentato formale rinuncia, mentre Arzachena e Viterbese non hanno fatto pervenire domanda al Dipartimento Interregionale. La documentazione fornita dai club passerà adesso all'esame della Covisod, che comunicherà l'esito entro giovedì 21 luglio. Per gli eventuali ricorsi il termine è fissato per le ore 20 del prossimo 24 luglio. Entro il 27, invece, la stessa commissione esprimerà parere motivato alla Lega Nazionale di Lettanti. L'ultima parola sull'ammissione al campionato verrà infine assunta dal Consiglio Direttivo della LND. Per quanto concerne Puglia e Basilicata, anche le formazioni considerate più a rischio nelle scorse settimane sono riuscite a presentare regolare domanda di iscrizione, senza particolari patemi. Il Dipartimento Interregionale ha inoltre reso noto che sono 17 le richieste di ripescaggio, in cui spiccano sia società perdenti gli spareggi nazionali di eccellenza, che società retrocesse e play-out o per distacco di 8 punti. Fra queste c'è anche il Molfetta, che ad oggi pare abbia buone probabilità di ripescaggio. Le richieste saranno valutate dalla Covisod e di Club, che otterranno un parere positivo, saranno inseriti nell'apposita graduatoria per l'eventuale completamento dell'organico del campionato 2023-2024. Chi invece non risulterà in possesso dei requisiti richiesti potrà presentare ricorso entro le ore 14 del prossimo 19 luglio. La Covisod esprimerà parere motivato alla Lega Nazionale Dilettanti sui ricorsi entro il 27 luglio, data oltre la quale non dovrebbero esserci più dubbi circa le formazioni che giocheranno il prossimo campionato di Serie D. Da qui in poi ci si potrà concentrare sulla stesura dei gironi. Grazie. 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 Grazie.